c'è ha dei riflessi velocissimi c'è velocissimi ma voglio voglio che c'è combattivo proprio guardate 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 con le chiede che fa mosso lunghissime le chiede si sta infastidendo e alquanto reattivo e pericoloso mamma me e scatta pure ha degli scatti si sta nervosendo ma è lasciarlo stare tranquillo bello tranquillo eccolo qua tranquillo bello grazie a tutti